Mentre c'è la rete di Pagano, Pagano, Nagava Oseini si butta dentro ancora per Pagano, Pagano, buona la palla al pivot, la rete di Davide Bartoli, vediamo un po' allora quest'attacco di Benedetto, Nagava Oseini, la palla per Di Benedetto, la conclusione la rete di Piero Di Benedetto, più 5, Rubiera 20 a 15, provano a giocare in velocità, la palla arriva, sfondo quello lì, cioè ha spinto, bene all'ala, la conclusione la rete, di Pasco Ila, rischio di gioco passivo, ancora la palla per Bartoli.